L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise è stata istituita con legge regionale nel 1999 ed è un ente strumentale della regione preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecnico-scientifiche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, alla realizzazione di iniziative di ricerca in materia ambientale, all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario. Da sei anni ormai è commissariata. Perché? Non è chiaro. Per questo i sindacati questa mattina hanno organizzato un presidio davanti al Consiglio regionale. Non siamo contro il commissario, la dottoressa Antonella Lavalle, ma contro il commissariamento, la prima cosa che precisano. Noi vogliamo un direttore generale. D'altronde sono sei anni. Non sappiamo le motivazioni del perché a distanza di sei anni ancora non è stato nominato il direttore generale. Dunque l'ente più importante in tema ambientale è commissariato alla vigilia di un momento storico per l'intera penisola con l'ambiente al centro dell'attenzione e oggetto di un nuovo modo di intenderlo con sul piatto importanti risorse legati al recovery plan. I cittadini sono stati privati dell'indipendenza e della capacità programmatoria che un direttore generale può avere nel campo dell'ambiente. Questa è una situazione assolutamente grave che rischia di mettere in difficoltà il futuro ambientale della regione Molise, soprattutto in vista della cosiddetta rivoluzione verde che porterà in Molise una quantità di soldi su cui bisognerà poi metterli in campo e saranno utilizzati per infrastrutture, per strutture di energia rinnovabile. La regione Molise, non dotandosi di una direzione generale per Arpa Molise, nello stesso tempo non sta recependo la normativa nazionale che obbliga alla regione a darsi una struttura a rete perché c'è un sistema a rete nazionale in cui tutte le agenzie si devono adeguare e devono seguire dei lineamenti. Basile, perché si continua a temporeggiare? Ma io non lo so, in questa regione sembra che le soluzioni siano i commissariamenti. Nulla da dire contro il commissario dell'Arpa, però adesso più che mai è necessario nominare il direttore generale per via delle funzioni che ricopre l'Arpa e per la necessità che incombe anche in questa regione di tutelare maggiormente l'ambiente. L'Arpa ha infinite ruoli e questi ruoli vanno gestiti più approfonditamente ed è una persona che si prenda la responsabilità fino in fondo. Certo è che rimandare non fa bene all'ente ma non fa bene alla tutela dell'ambiente e dei cittadini molisani.